Sono Filippo Nigro, sono designer, presento l'installazione Archive per Nuova Mobili al Salone del Mobile 2016. Nell'installazione Archive ho utilizzato un sistema esistente di Nuova Mobili, un sistema molto modulare di scaffali. Ho cercato di usarlo come materia prima alla mia installazione, quindi usarlo nella ripetizione, nel cumulo di queste librerie, in modo di creare un percorso soggettivo che gioca con sia le proporzioni dei moduli che con i colori. Il dettaglio che mi piace di più, che non è un dettaglio in realtà, è un effetto, è l'effetto ottico che si crea quando la trama delle librerie si sovrappone l'uno con l'altra, anche con il colore e quindi con le differenze di profondità. Il lavoro di designer è quello di passare dall'oggetto, dal mobile, dal prodotto o anche dallo spazio. E queste nuove esperienze, nel mio caso, di allestimenti, di progettare spazi, mi fa pensare che anche fare, non so, progetti di interni o di architettura, possono essere anche cose molto interessanti e molto complementari con il mestiere di designer.